ciao a tutti benvenuti sul canale di parfa di te oggi andremo a vedere come verificare se c'è la fibra nel vostro comune di appartenenza basta scrivere sulla barra google fiber map date invio selezionate la vostra regione di appartenenza scegliete il comune inserite la via mettete il numero civico in questa scremata vediamo quale tipo di fibra è possibile attivare sulla sulla vostra nella vostra via se vi è piaciuto il video lasciate un like iscrivetevi al canale per nuovi aggiornamenti e ci vediamo al prossimo video